ciao a tutti e benvenuti oggi farò un tutorial in cui vi farò vedere come realizzare questa elaborazione a maglia questa elaborazione praticamente lavoro a punto rilievo al punto mandorla io l'ho chiamata così perché come vedete i disegni che si sono i rilievi che si sono creati hanno una forma secondo me molto simile a una mandorla possiamo iniziare facciamo avvio di maglie se volete fare lo stesso identico al mio ne dovete avviare 22 maglie ci vediamo quando ne avete avviate se avete bisogno di vedere come si fa avvio e le mode di avvio delle maglie qui sotto vi lascio allegato un link che potete consultare ecco ho avviato 22 maglie possiamo iniziare la prima io non elaboro la faccio passare poi faccio 3 a rovescio guardate 1 2 3 la quarta la faccio per il diritto poi di nuovo 3 a rovescio la quarta per il diritto e così tutto 3 a rovescio la quarta per il diritto 3 a rovescio e quarta per il diritto anche ultima la faccio per il diritto perché ci permette di avere il bordo perfetto giusto allora qui adesso guardate prima come sempre la faccio passare poi di nuovo 1 3 per il diritto poi 1 a rovescio 3 per il diritto una a rovescio qui dobbiamo applicare la tecnica del rasato per il diritto e quello di rovescio che ho già spiegato quindi se avete bisogno troverete i link qui sotto vedete seguo sempre il disegno che si sta creando la male che si sta creando ultima come sempre faccio per il diritto poi ecco la terza vedete allora stessa cosa facciamo lì dove c'è la rovescio al rovescio dove c'è il diritto procediamo con quello per il diritto e così andiamo su 7 righe 7 feri scusate ci vediamo quando avete fatto 7 feri ecco qui ho fatto 8 feri chiedo scusa non erano 7 ma 8 ora dopo aver fatto queste 8 feri possiamo iniziare la creazione del nostro punto a mandorlina allora guardate prima non la lavoro la faccio passare faccio primi 3 normalmente a rovescio come sappiamo già fare poi quando arriviamo a questo punto dove ci ritroviamo con il diritto dobbiamo non fare altro che fare la lavorazione per il diritto ma in modo particolare quindi dobbiamo fare una lavorazione che parte dalla stessa male per il diritto ma dal ferro di sotto quindi guardate entro nel forellino nella riga di sotto uno più in basso vedete e faccio un'elaborazione normale per il diritto ok poi torno a fare un'altra elaborazione per il diritto ancora da più sotto quindi caliamo sempre di una riga ancora più sotto ok poi ancora più sotto caliamo facciamo sta scalina che partiamo dal settimo e andiamo in giù guardate ancora più sotto e si creano queste maglie che sono quelli più sotto hanno filo più lungo vedete hanno questo effetto del filo più lungo guardate ecco vedete sta prendendo già la forma ora guardate qui un attentamento un altro momento particolare dobbiamo spostare tutte queste mali che abbiamo creato sul ferro di sinistra fate piano per non far cadere niente ora adrezzate mettete la posizione giusta controllate che siano tutti uguali adesso dobbiamo fare un'elaborazione per il diritto prendendo tutti questi forellini tutti questi mali che si sono creati guardate passo da dietro e faccio una semplice lavorazione per il diritto agganciando il filo da dietro può essere che è un po' sbrigoso perché non è facile a riuscire a passare da tutti ma se fate con calma riuscite guardate creo faccio cadere tutte le maglie quelle che avevamo creato e creiamo quella nuova guardate ok ora torno a rimettere quella nuova male che si è appena creata sul ferro di sinistra e faccio un'altra elaborazione per il diritto stavolta normalissima guardate ecco la fate un po' strettina stringete il giusto per il disegno che ci serve per il rilievo anche che volete guardate questa è la prima mandorla che si è creata ora procediamo con il rovescio 1 2 e 3 ecco adesso adesso qui la maglia per il diritto la facciamo normale vedete poi facciamo 3 di rovescio per il rovescio ora facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima guardate faccio elaborazione a rovescio partendo dalla settima riga di sotto vedete furlina di sotto? ecco una un'altra elaborazione della stessa due sempre scalando di una riga scendiamo giù sulla trecittina praticamente quinta ora facciamo la sesta sempre scalando giù e la settima guardate ora rifacciamo quello che abbiamo fatto prima spostiamo nuovamente le maglie create su ferro di sinistra non avete fretta e ora facciamo la lavorazione di tutti questi sette maglie come se fosse una unendo tutto vedete poi torniamo a rispostare e lavorazione normale un'altra volta ecco e così abbiamo già due punti a mandorla rovescio qui facciamo normale perché alterniamo e concludiamo con rovescio rovescio tre volte per il diritto ecco qui abbiamo già queste due mandorle che si sono create dobbiamo adesso andare in su a fare altri otto ferri nell'identico modo come abbiamo fatto prima tre a rovescio uno per il diritto tre a rovescio uno per il diritto e qui abbiamo fatto le nostre sette ferri guardate sette ora dobbiamo procedere con la creazione delle mandorle la particolarità che li faremo alternati quindi adesso sulla prima tricettina dove abbiamo fatto la prima mandorla vedete io in questa ottava riga lavoro normalmente e decorazione la creerò sulla seconda tricettina questa qua poi la terza la lascio andare cioè la lavoro normalmente e la quarta farò un'altra mandorla possiamo procedere allora la male di vivaglio io la faccio passare senza elaborare faccio le prime tre faccio le prime tre a rovescio la quarta per il diritto ora rovescio uno due tre ora qui inizio con la mandorla con la stessa con il stesso modo che abbiamo fatto prima quindi andiamo nella riga sotto vedete nel fuorilino della maglia sotto e facciamo una elaborazione per il diritto uno ok ora di nuovo più sotto la sesta vedete ora in quella quinta poi ancora più sotto e così tutte le maglie si creano con una riga più in giù facciamo sta scalata sempre vedete ecco vedete come prima sono sempre li sposto di nuovo guardate facciamo stessa cosa di prima spostiamo sul ferro di sinistra ecco sistemiamo bene e ora facciamo elaborazione per il diritto passando da tutti da tutti tutte le maglie scusate creandone una che riunisce tutti lo facciamo così stringiamo bene spostiamo di nuovo su quello di sinistra e un'altra elaborazione per il diritto ecco vedete stessa identica cosa ora andiamo con tre a rovescio con una per il diritto normale uno due e tre ora ora questa una elaborazione a rovescio normale vedete sempre per il motivo di prima perché dobbiamo fare questa specie di scacchiera uno due tre ecco ancora stessa cosa andiamo nel forlino della maglia di sotto uno vedete per il diritto una volta poi sempre più sotto scaliamo sempre la regola è scalare sempre di uno in giù vedete e così le solite sette guardate poi controllate contate che siano tutte ecco poi facciamo la stessa cosa spostiamo su quello di sinistra guardate ok poi facciamo una maglia per unirli tutti per il diritto non è un po' perigoso ma ne vale la pena l'effetto è molto bello guardate la faccio bella strettina per unirli bene poi torno a rispostare dall'altra parte e di nuovo una per il diritto vedete così siamo nella stessa altezza ecco di nuovo il prossimo passaggio è quello di fare altre sette maglie in su ok per poi alternare e le mandorle stavolta si troveranno nella prima e nella terza e così via fino a quanto sarà lungo ad esempio ad esempio la sciarpa vedete voi dipende che cosa dovete realizzare e che vedete 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 vedete